Dobbiamo rivedere la nostra visione dell'antico Egitto? Gli archeologi hanno fatto una scoperta scioccante, che dimostra la brutalità degli abitanti dell'impero faraonico non conosceva limiti. I creatori delle piramidi non si limitavano a erigere monumenti per l'eternità, ma mutilavano anche i loro nemici in modo bestiale. Templi mortuari mistici, geroglifici misteriosi e piramidi colossali tra le culture dell'antichità, gli antichi egizi occupano una posizione assolutamente eccezionale. Visti gli innumerevoli capolavori e realizzazioni, alcuni ritengono addirittura che gli egizi abbiano fatto ricorso a tecnologie che oggi non oseremmo nemmeno sognare. Tuttavia, al di là della grande ammirazione e del timore, non dobbiamo dimenticare che i faraoni avevano anche un lato oscuro. Uno studio innovativo ha scoperto un crudele culto dei trofei che ci fa gelare il sangue. Nel dettaglio, i ricercatori hanno scoperto tre fosse separate nel cortile dell'antico palazzo egiziano Ixos nel sito di Avaris. Tuttavia, le fosse non contenevano figure sacre o preziosi doni funerari, bensì dodici mani destre mozzate. Il palazzo Ixos fu costruito durante la Quindicesima Dinastia, datata tra il 1640 e il 1530 a.C. In dettaglio, gli Ixos erano un gruppo di re stranieri che governarono l'Egitto durante il cosiddetto Secondo Periodo Intermedio. Sebbene le parti del corpo mozzate siano state menzionate in antiche iscrizioni funerarie egizie, questa è la prima volta che gli esperti hanno trovato delle prove concrete. Sebbene i ricercatori abbiano stabilito che le mani appartenevano a maschi adulti, non sappiamo se le amputazioni siano state effettuate prima o dopo la morte. Quello che è certo però è che i tendini e i legamenti che tenevano insieme le ossa erano completamente intatti dopo la sanguinosa procedura. Una tecnica per recidere le mani in modo netto consisteva nel tagliare la capsula articolare e aprirla tagliando i tendini. Se questa operazione fosse stata eseguita correttamente, non ci sarebbero stati segni di taglio sulle ossa, ma perché gli egizi tagliavano le mani ad alcuni uomini e chi erano le pietose vittime. È molto probabile che si tratti di parti del corpo di nemici sconfitti. Inoltre, molti dettagli indicano uno scopo cerimoniale. Per prima cosa, le mani sono state trovate in tre fosse separate nel cortile proprio di fronte alla sala del trono. La posizione fu probabilmente scelta di proposito per non essere trascurata. Anche la grande cura con cui sono state eseguite le amputazioni suggerisce un contesto rituale. Tuttavia, coloro che tagliavano le mani probabilmente non solo ricevevano fama e riconoscimento, ma anche il cosiddetto oro d'onore. Alcune iscrizioni di tombe e templi indicano che le parti del corpo amputate venivano scambiate con perline d'oro. Il re che uccise 580 persone. Tra i ricercatori, Ger è noto soprattutto per una cosa, il suo regno estremamente lungo. Il faraone della prima dinastia salì al potere intorno al 2980 a.C. e non lo abbandonò per i 54 anni successivi. Alcuni manufatti dimostrano che Ger introdusse anche una serie di innovazioni, come ad esempio la tradizione di celebrare il convoglio di Horus ogni due anni. Tuttavia, la morte del re segnò anche una svolta senza precedenti. Infatti, quando il sovrano fu deposto ad Abidos, non era affatto solo. Nelle immediate vicinanze del sito furono scoperte oltre 318 sepolture secondarie. Tuttavia, il numero di casi non riportati è probabilmente ancora più alto. Molti ricercatori stimano che il faraone sia stato accompagnato nell'aldilà da 580 persone. Dato che si trattava di servitori e collaboratori, è impossibile che siano morti tutti per cause naturali. Ma quali sono il retroscena di queste uccisioni di massa, che sembrano così crudeli e inquietanti dal punto di vista odierno? Ebbene, poiché gli antichi egizi erano convinti che la morte non fosse la fine, i seguaci venivano uccisi per accompagnare il faraone e servirlo nell'aldilà. Forse il re voleva anche dimostrare il suo potere, oltre la morte, in questo modo. Non dobbiamo dimenticare che i sovrani dell'epoca erano venerati come divinità in forma umana, e si credeva che il diritto di possesso del faraone si applicasse non solo in questo modo, ma anche nell'aldilà. I dettagli sul destino dei sacrifici umani sono contestati dai ricercatori. Da un lato è ipotizzabile che i servi si siano lasciati uccidere volontariamente per ottenere la vita eterna o per aumentare il loro status. D'altro canto, è anche possibile che non abbiano avuto alcuna voce in capitolo e che siano stati selezionati e uccisi contro la loro volontà. La maggior parte dei seguaci trovati finora erano giovani uomini, avevano circa vent'anni e molto probabilmente appartenevano alla guardia reale. Le donne sepolte erano a loro volta serve, concubine e mogli. In alternativa, c'è anche la teoria che le vittime siano state scelte tra i ranghi di altre famiglie d'elite. Questo aveva lo scopo di simboleggiare l'unità del gruppo e di rafforzare i legami sociali. Questo rafforzava la convinzione che il sacrificio dei servi contribuisse alla prosperità del regno e dimostrasse la fedeltà alla casa reale. Tuttavia, gli ultimi momenti di vita dei prescelti erano tutt'altro che pacifici. Di solito venivano strangolati, avvelenati, sgozzati o sepolti vivi. Questo sarcofago è maledetto. Un piccolo avvertimento, se stai per mangiare qualcosa, metti da parte lo spuntino per un momento, fidati, fallo e basta. Qualche anno fa alcuni esperti di Alessandria d'Egitto hanno scoperto un misterioso sarcofago di granito che è stato subito sospettato di contenere una cosa sensazionale, i resti immortali di Alessandro Magno. Ma man mano che la scoperta faceva il giro del mondo, il resto della popolazione si preoccupava sempre di più. Invece di un re scomparso da tempo, la bara nera conteneva più probabilmente una maledizione diabolica. E in effetti, dopo aver deciso di aprire il sarcofago contro tutti gli avvertimenti, i ricercatori fecero davvero una smorfia di dolore. Questo non era dovuto tanto a un incantesimo demoniaco, ma piuttosto all'odore disgustoso che ha immediatamente riempito le loro narici. I tre scheletri all'interno erano in un brodo nauseabondo, che puzzava letteralmente da morire. Cosa si fa quando si trova dell'acqua salmastra sporca che sta marcendo da chissà quanto tempo? Chiedere di poterne bere un sorso. Nella ferma convinzione che l'acqua della mummia abbia poteri mistici, alcune persone hanno espresso il desiderio di berne un bicchiere. Tuttavia, ulteriori analisi hanno rivelato che non si tratta di una pozione miracolosa, ma di acqua di scarico che si è infiltrata nella bara attraverso le fessure nel corso del tempo. Cosa nasconde questo scrigno? Qualche anno fa, gli archeologi della necropoli di Deir el-Bahari hanno fatto una scoperta inaspettata e sensazionale. Uno scrigno di pietra è una scatola di legno, il cui contenuto potrebbe aiutare a risolvere un mistero millenario. Mentre la scoperta è stata registrata da un team dell'Università di Varsavia, la misteriosa cassa di pietra riposava in mezzo a un grande cumulo di macerie. Inizialmente si pensava che fosse un semplice masso, ma quando gli esperti hanno riconosciuto il forziere come tale e lo hanno aperto, non potevano credere ai loro occhi. Il manufatto, risalente a circa 3.500 anni fa, nascondeva diversi oggetti sorprendenti, tutti accuratamente avvolti in un telo di lino. In totale, il forziere di pietra conteneva tre fagotti. Uno conteneva lo scheletro di un'oca, che molto probabilmente era stata sacrificata per scopi religiosi. Il secondo conteneva apparentemente l'uovo dell'oca, mentre l'ultimo conteneva anche un uovo, probabilmente di un ibis. Non lontano dalla cassa di pietra, i ricercatori hanno recuperato un piccolo portagioie in legno a forma di antica cappella mortuaria egizia. Questo scrigno portava il nome del faraone Thutmosis II. Nel complesso, il nome e il simbolismo del reperto indicano che la scoperta è direttamente collegata alla casa reale. Inoltre, il deposito reale suggerisce che la tomba di un faraone finora sconosciuto si trova nelle immediate vicinanze. Gli oggetti recuperati urlano letteralmente che Thutmosis II stesso è stato sepolto qui, anche se la posizione esatta della sua tomba è stata persa per migliaia di anni. Il faraone rimase al potere per soli tre anni e morì all'età di 16 anni. Prima di allora aveva sposato sua sorella Hatshepsut, un'unione tutt'altro che insolita per l'epoca. Sembra che Hatshepsut abbia dominato completamente il fratello e che lui non abbia mai governato veramente. Alla fine divenne il primo faraone donna della storia e regnò per quasi 22 anni. 800 in un colpo solo Ogni volta che gli archeologi in Egitto scoprono nuova tomba, la loro gioia è incontenibile. Ma quanto devono essere grandi le grida di gioia quando scoprono 800 tombe in un colpo solo? In effetti il sogno di ogni egittologo dovrebbe diventare realtà nel 2018. Il gigantesco cimitero si trova tra due piramidi vicino a Ellisht, 60 chilometri a sud del Cairo. Anche se oggi le tombe non sono più riconoscibili in superficie, gli esperti sono riusciti a ricostruire il loro aspetto originale. Secondo la ricostruzione, le tombe avevano dei tetti e c'erano persino delle strade causali che conducevano alla vicina riva del fiume. Per i ricercatori la scoperta apre un'importante porta sul passato. Le tombe permettono di conoscere meglio i diversi gruppi di persone che vivevano a Ititawi 4.000 anni fa. Questa è la città che Amenemet I dichiarò capitale nel secondo millennio a.C. Anche se Ititawi era probabilmente situata vicino al cimitero scoperto, la sua posizione esatta è ancora sconosciuta. Sebbene il Medio Regno sia spesso messo in ombra dall'Antico e dal Nuovo Regno, quest'epoca è di particolare interesse per gli esperti. Quest'epoca ha rappresentato il periodo di massimo splendore dell'arte e della cultura ed è stata anche l'epoca in cui il dio dei morti, Osiride, ha raggiunto una posizione di rilievo. Poiché solo poche tombe reali erano state scoperte in precedenza nella regione rivelano informazioni senza precedenti sull'ampia popolazione del Medio Regno. Ora sostienici con un'iscrizione e aspetta di vedere molti altri video. Grazie. Grazie.